Finalmente un medico che dichiara, come uno tsunami, la verità. I medici ancora sani nel pensiero, i medici saggi, i medici che sono ancora amici degli esseri umani, prendano esempio e si attivino. Quel momento è adesso. Il mio nome è dottor Tamper. Sono un praticante privato in Omaha, Nebraska. Non indosso mascherina e vedo 200 pazienti alla settimana. Sono sempre a stretto contatto con i pazienti che arrivano. Perché non ho contratto la cosiddetta presunta malattia? Gli americani sono del 5% dell'intera popolazione mondiale, ma consumiamo dal 65 al 70% delle medicine mondiali. Siamo una delle due nazioni che permettono la pubblicità dei farmaci in televisione. Ma al momento l'80% degli americani soffrono di malattie croniche associate con uno stile di vita povero. La scelta. 70.000 persone moriranno per malattie cardiache solo quest'anno. Dottore, per favore mantenga il suo contegno. 60.000 persone moriranno per il cancro. 300.000 persone moriranno per obesità quest'anno, quando è troppo e troppo. Se questa è veramente la salute, allora obbligate una vita sana. Esercizi. Scelta di cibo buono, chiropratica. Bandite tabacco e sigarette. Sì. Zuccheri trattati. Credo sia stato Thomas Jefferson che ha detto che se le persone lasciano decidere al governo che tipo di cibo devono mangiare e che medicine devono prendere, i loro corpi si trasformeranno quanto prima in uno stato pietoso. come quelle anime che vivono nella tirania. Vedete che Dio ha creato il vostro corpo che si autoregola. Se date al corpo ciò di cui ha bisogno sarà sano. È come una pianta passita sotto il sole, un modello allopatico che deve essere schermato per proteggere quella pianta dal sole, tagliare le sue foglie, medicare o vaccinare quella pianta. Ma è un approccio epigenetico, un approccio al benessere, è fornire a quella pianta l'acqua e starà bene. Vedete il vostro corpo non è diverso. Dobbiamo mangiare bene, muoverci bene, pensare bene e possiamo stare bene. In altre parole il vostro livello di salute è l'espressione genetica della vostra scelta e dello stile di vita. Ed io so molto bene che l'abilità del vostro corpo è guarire da solo per superare le malattie e le circostanze come il corona. È molto meglio di qualsiasi altra cosa che qualcuno ha voluto farvi credere. Benjamin ha firmato la dichiarazione dell'indipendenza degli Stati Uniti. Pertanto non mettiamo la libertà medica nella Costituzione. Arriverà il tempo dove la medicina organizzerà una dittatura sotto copertura per limitare le possibilità di guarigione per una sola classe di uomini, per negare privilegi uguali agli altri. Quel tempo è adesso. Queste mascherine non servono assolutamente a niente per la salute. Tutto quello che fate è assecondare gli errori, le false flag, la gente tirannica. Se sacrificiamo di nostra preziosa libertà per una sicurezza temporanea perderemo tutte e due. Se non saprete comprendere questa dichiarazione, se siete ciechi su questo programma, mi spiace, avrete gli occhi di un'aquila per la visione di un mollusco.